Alcidi Youtube ben trovati da Marco Ligori colpita da arresto cardiaco a soli 14 anni perde la vita la giovane studentessa il fatto di cronaca di oggi è avvenuto a Inzago in provincia di Milano durante l'ora di educazione fisica una studentessa di appena 14 anni è stata colpita da un malore ed collassata a terra la ragazza priva di sensi è stata ricoverata ad urgenza ma sfortunatamente ha perso la vita 48 ore dal ricovero il secondo me di Marco Ligori con tutto il dispiacere del mondo fa le più sentite condoglianze alla famiglia della ragazza che ricordiamo ha perso la vita a seguito di arresto cardiaco a soli 14 anni amici di Youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti